Che il filone sudamericano del traffico di stupefacenti sul Garda fosse florido era noto, ma ora i carabinieri cominciano ad avere più chiara la portata del giro d'affari davvero imponente. Lo testimonia anche il 1,748 kg di cocaina sequestrato nel parcheggio vicino al casello autostradale di Desenzano, operazione nella quale ci sono tre persone arrestate e una denunciata, tutte colombiane. Fatte le verifiche del caso, dopo segnalazioni di strani movimenti nella zona, i carabinieri di Desenzano hanno deciso di intervenire subito dopo la consegna della droga, un involucro da un chilo, passata da una colombiana ad un connazionale, residente però a Barcellona, presentatosi all'appuntamento con moglie, poi denunciata, e addirittura con i figli di tre anni. Le indagini hanno poi portato all'appartamento di un'altra colombiana dove è stato trovato il resto della droga, cocaina purissima per un valore complessivo di mercato che si aggira intorno agli 80-100 mila euro. Insomma, un altro duro colpo al notevole traffico destinato a rifornire il mercato del basso garda. Infatti già nel gennaio, il 14 gennaio abbiamo proceduto al sequestro di 32 kg di sostanza stupefacente però tipo hashish. Questo weekend ha due chili di cocaina, quindi è un'attività che per la compagnia di Desenzano è un'attività molto sentita, anche per dare risposte concrete al patto della sicurezza sul basso lago di Garda.